Amici, Gaetano De Martino per contatto, siamo a Casoria, all'inaugurazione della Facile Rent. Pensate, la prima concessionaria di noleggio a lungo e breve termine in Italia. Questa sera c'è tutto il direttivo dell'azienda e ci sono tantissimi ospiti comici, perché Facile Rent è uno sponsor di Made in Sud Show. Quindi con Gaetano De Martino e i comici di Made in Sud, rimanete con noi e non perdetevi queste immagini. All that I can say was Yeah, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, all that I can say was Mm, mm, yeah, yeah, she looks so good, but she bad, bad, you can see that bag from the front, front, booty like Chris Krause, jump, jump. Meet me in the middle of the ocean, we can find ourselves and lose our minds, rewound, wrang, 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 play, find ourselves and lose our minds today. Austin, them and Armando, acabando, latinos y gringos gozando, mentiendes. For those that thought that we would stop definitely don't have a man to thank with, brainless. Most of them broke with their fame, listen, some got hit with their names, but for me they forget about that when I seen you. Yeah, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, yeah, mm, 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 yeah Caetano De Martino per contatto siamo qui all'inaugurazione di Facile Rente la prima concessionaria di noleggio a lungo e breve termine d'Italia e sono in compagnia del mio partner Salvatore Misticone alias Scapece, ciao Sasà anch'io sono in compagnia del mio partner, solo che non mi ricordo mai come si chiama Caetano De Martino scherzando logicamente però dobbiamo fare il fatto del dito per il contatto due parole per questa inaugurazione, allora questi ricordati bene, vi dimmi che lo cammarisce perché questi ci hanno dato la macchina di ricordi a lui che vi devo dire, noi siamo clienti quindi siamo soddisfatti e entusiasti di questa società che si supporta così bene nel senso che veramente non ci fa trovare nessun problema è come se fosse la macchina di Aladino tu metti la mano metti la chiave e tutto va insomma però fino a un mese vi devi ricordare di pagare sì, è importante non pagare più è importante, è importante quindi noi auguriamo lunga vita a Facile Rente che sono dei nostri amici e salutiamo gli amici di contatto esatto, salutiamo gli amici di contatto mi piace assai sta cosa non me l'hanno mai di Tino con Salvatore Mistico Ancora a Facile Rente questa mega inaugurazione della prima concessionaria di noleggio a lungo e breve termine d'Italia e siamo in compagnia con delle punte di diamante della trasmissione Made in Sud Ivan e Cristiano Cristiano ti punta anche un po' dell'iceberg diciamo che è sintomatico siamo veramente contenti di aver presenziato a questo evento un evento importante una bellissima azienda questa qua che offre la possibilità appunto di poter acquistare di poter visionare delle automobili bellissime infatti vorremmo farci un giretto dopo visto una Jaguar da quelle parti sì 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 ma abbiamo delle offerte pure sulle Jaguar Ivan il tuo saluto sì no perché noi per tornare a casa adesso stiamo aspettando appunto l'auto da noleggiare quindi torniamo a casa solo grazie a Facile Rente che meraviglia che meraviglia invece faranno una macchina per noi tipo Batman Ivan e Cristiano Motto potrebbe essere potrebbe essere ragazzi il vostro successo consacrato dopo veramente tanti anni di duro lavoro e di sacrificio questa la facciamo dire a Ivan questa cosa sì le cose serie Ivan è una soddisfazione significa che comunque il sacrificio è ripagato certo è una soddisfazione ma il sacrificio e il lavoro come tu mi insegni non finiscono mai in questi lavori come giusto che sia come in tutti i lavori non bisogna mai demordere no 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 sempre col sudore della propria fronte vanno conseguiti gli obiettivi i risultati e noi ci stiamo mai demordere ma solo mordere bene la battuta ci voleva eccome no e con Ivan e Cristiano rimaniamo in contatto datemi le dita salutiamo gli amici di contatto da Facile Rent con Ivan e Cristiano ciao siamo ancora all'inaugurazione di Facile Rent e abbiamo scorto Gino Fastidio che sta parlando con delle signorine Gino la comunicazione è seria è pure tu era travestito no ma stiamo discutendo dei massimi sistemi della fisica adesso stiamo parlando della legge di Ottmar Ottman Ottman chi l'ho perdetta mano esatto e poi gli dà senti mano esatto e stasmano stiamo che cazzo ok cioè voglio dire le cose cambiano vabbè Gaetano cosa ti devo dire qua davanti a tutti e oggi è bello Gino grande serata questa sera qui alla Facile Rent è un posto bellissimo una grande struttura mi raccomando venite perché mi hanno dato una macchina a prezzo buona a prezzo stegete Gino salutiamo gli amici di contatto col di DT l'amore di DT l'amore di DT contatto delle vicine Nico questo è per te Mollo questo è per te contatto per il tuo noleggio a breve e lungo termine c'è Facile Rent ci vediamo qui da Facile Rent ci vediamo da Facile Rent ciao contatto bellissima, nuovissima, immacolata amici salve sono Max Bellocchio noleggiare un'auto è facilissimo con chi? con Facile Rent I Alimi e Spello continuano ad esibirsi i comici di Made in Sud proprio perché Facile Rent è uno sponsor di Made in Sud Show, quindi continuiamo a goderci lo spettacolo, rimanete ancora con noi perché le sorprese continuano. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!